allora parliamoci chiaro per quanto mi riguarda voi esercenti potete chiudere tutti ma proprio tutti dal primo all'ultimo cioè chiedermi di indossare la mascherina offende la mia intelligenza allora non ci state a fare niente a questo mondo fallite tutti proprio chiudete questo meritate perché siete una massa di pecore ignoranti allora non vi azzardate a chiedermi ciò se una volta ero per i negozianti piccoli negozianti per l'economia locale beh adesso riprenderò anzi inizierò ad acquistare anch'io su internet su amazon vi faccio anche pubblicità perché per quanto mi riguarda voi potete chiudere chiudere tutti dal primo all'ultimo e tranne non auguro questo a quei pochi che la mascherina non la indossano e non la fanno indossare a questi auguro buona vita lunga vita anzi e prosperità e auguri a tutti